Tre chiese in altrettanti comuni del Varesotto diventano siti museo aperti al pubblico per raccontare attraverso l'archeologia la storia del territorio. A conclusione di un percorso di studio che ha coinvolto negli ultimi anni il gruppo di ricerca in antropologia dell'Università dell'Insubria, è stato inaugurato il percorso bioarcheologico della Valcuvia. Si tratta della musealizzazione di tre siti, si tratta davvero di un itinerario di musei a cielo aperto caratterizzati dalla presenza di antiche aree funerarie e della scoperta appunto di diversi resti umani di età medievale. L'Università ha lavorato per diversi anni su questi siti, queste chiese fino a qualche mese fa erano dei laboratori di bioarcheologia. L'inaugurazione del percorso alla presenza delle autorità si è svolta con una visita ai tre siti, a partire da Cittiglio. Io che rappresento il gruppo degli Amici di San Biagio che dal 1988 sta lavorando per la valorizzazione e il recupero di questa chiesa, oggi siamo davvero a un nuovo punto di partenza perché ridiamo accessibilità alla nostra chiesa dopo tanti anni di non possibilità di utilizzo. Oltre a San Biagio a Cittiglio fanno parte del percorso anche la chiesa di Sant'Eusebio e Sant'Antonio ad Azio dove spicca la cripta situata sotto l'altare maggiore e quella di Sant'Agostino a Caravate dove è stato realizzato il bioarchivio Insubre. Questi tre comuni Caravate, Azio e Cittiglio hanno colto questa bellissima opportunità di dare ai propri paesi un luogo archeologico da poter visitare e da poter lasciare soprattutto ai giovani in modo tale che dalla storia possiamo capire per bene le nostre radici. Faccio un esempio, a Caravate i trovamenti ossei che ci sono stati e dove li abbiamo messi nella ex biblioteca a Sant'Agostino serviranno per ricostruire il modo di mangiare dei nostri antenati.